Non vengo, non vengo, ho capito. Dai, non va mica il tuo telefono, prendi di fianco, no, dai. C'è il vestino, tanto che sono già su Bung. Sei già su Bung, te? E vai. Guarda, questa la conosci. Custati i pepi? Guarda che sì. Oh, buonasera. Ma pensa te, questo signore qua è molto fortunato. Fortunatissimo questa sera. E vai. E vai. Un bel sorriso. E vai. Sì. È arrivato la rotino. Vai. Sì.